Quando abbiamo scoperto, abbiamo saputo che la nostra proprietà era una forte società indonesiana, sicuramente ci ha colpito. La prima domanda che ti fai è come è possibile che una proprietà indonesiana possa investire nel nostro calcio, nel nostro como, più che calcio. Cioè, abbiamo una prospettiva fantastica. Allora, i nomi di questa società sono altisonanti, però bisogna vedere se ai nomi si abbina una praticità e un'unione di intenti. Perché Artono, Suarzo, sì, gente col cash, ma li buttano dentro? Per adesso sembra che sì, perché la senti?